Stai guardando gli annunci immobiliari e trovi diciture come classe energetica F e P totale 90,750? Ma cos'è una classe energetica? E soprattutto, qual è il significato di questa lettera e dei numeri? Tecnicamente, l'attestato di prestazione energetica o APE è un documento informativo riferito alla singola unità immobiliare che riporta la prestazione energetica dell'edificio, in classi che vanno da A4 fino a G. Praticamente, significa che un tecnico certificatore abilitato deve venire a casa tua, prendere le misure delle stanze, verificare lo spessore e la tipologia dei muri, la tipologia degli infissi, controllare i documenti della caldaia, inserire questi dati in un programma che li analizza e assegna la classe energetica con una lettera e un coefficiente numerico. Questa classe energetica è un dato analitico ed è importante per capire quanto spendi per raffreddare e riscaldare la tua casa. Più la casa è recente e più sarà alta la sua classe energetica. Ricorda, l'attestato di prestazione energetica è obbligatorio sia per vendere, sia per affittare, ma anche per pubblicizzare la tua casa ed ha una validità di 10 anni. Ma se esegui delle modifiche agli impianti o agli infissi, deve essere rifatto. Sono sicuro che questo video ti ha fatto chiarezza sulla classificazione energetica e se vuoi migliorare il rendimento della tua casa o semplicemente saperne di più, contatta il tuo tecnico di fiducia. Ci vediamo nel prossimo video! Ciao!